Cari amici di Fano TV, ben trovati. Questo è il secondo approfondimento in studio in cui parliamo di Fuori Brodetto, l'iniziativa realizzata in collaborazione con la Federazione dei Ristoratori di Pesaro Urbino, aderente a Confesercenti. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Buonasera e ben trovato Matteo Radicchi, direttore di Confesercenti Fano. Buonasera. E buonasera Stefano Mirisola, responsabile sindacale di Confesercenti Fano. Buonasera. Allora siamo a metà percorso, quindi bisogna fare il primo bilancio. Come sta andando Fuori Brodetto? Un successone. Queste serate sono state tutte sold out praticamente, grande afflusso di gente, molta soddisfazione perché i brodetti, dobbiamo dirlo, sono veramente veramente buoni, sia quelli che rispettano di più la tradizione e anche quelli più innovativi, diciamo, le varie rivisitazioni. Stanno piacendo davvero tanto al pubblico che abbiamo notato, sta prenotando anche diversi ristoranti per proprio provare ogni volta un brodetto diverso. Quindi c'è soddisfazione sia da parte dei ristoratori aderenti all'iniziativa sia da parte del pubblico, come hai appena detto. Ci stiamo avvicinando al gran finale, la serata da mille e una notte, dove gli chef si sfideranno insomma a suon di pentole il 26 di novembre. Sì, questa settimana termineranno le serate speciali e riusciremo a decretare i due finalisti che poi si sfideranno il 26 novembre a Villa Piccinetti in questa serata di gala dove selezioneremo il brodetto migliore della nostra provincia. Senti, ma il pubblico, visto che tu insomma sei presente durante queste serate e hai anche un contatto diretto con i ristoratori, a metà percorso possiamo dire che il pubblico è fidelizzato al brodetto tradizionale o ama l'innovazione? Diciamo che si sono divisi insomma, c'è chi preferisce quello tradizionale ma anche chi gli è piaciuto sperimentare delle ricette nuove, alcune più leggere, alcune più particolari. Certo è che l'unica cosa che unisce tutti è questo pesce fresco portato in tavola perché quest'anno quello a cui abbiamo cercato di puntare ancora di più è il miglio zero, portare il pesce direttamente dal pescatore alla tavola con l'unico passaggio dei ristoratori che hanno dato il meglio di loro per cercare di valorizzare quello che è la nostra zuppa del territorio. Infatti ricordiamo che l'iniziativa oltre a promuovere il piatto tipico della nostra tradizione marinara insomma lo promuove fuori stagione se così si può dire e quindi è un valore aggiunto questo? Sì, un valore aggiunto dove abbiamo deciso di legare appunto anche un altro progetto importante che è la Fanno Gastronomica, un progetto portato avanti dal Comune di Fano dove abbiamo deciso di coinvolgere appunto i tre esperti che sono stati coinvolti dall'amministrazione comunale ovvero Otello Renzi, il professore Piccinetti e Gian Mattei che hanno deciso insieme ai nostri chef di girare nelle varie serate a fare da giuria e non provare solo il brodetto ma anche il piatto della tradizione che ogni sera ogni ristoratore decideva di proporre ai propri clienti. E quindi anche questa è stata un po' una sorpresa per il pubblico? Sì perché comunque hanno avuto la possibilità di riscoprire o comunque di avere la possibilità di mangiare i piatti della tradizione fanese cosa che diciamo hanno deciso di valorizzare e questo ci rende molto orgogliosi come confesercenti perché comunque è vero e bello fare un evento che funziona ma allo stesso tempo cercare di riempire i ristoranti in un periodo che comunque come sappiamo è di bassa stagione e quindi c'è meno movimento in giro e allo stesso tempo anche di riuscire a promuovere quello che è il nostro diciamo prodotto di punto ovvero il pescato fresco dei nostri mari. E poi insomma portare avanti come si dice e difendere le nostre tradizioni gastronomiche ecco fa la differenza e sicuramente fa piacere. E progetti futuri invece a riguardo? Progetti futuri diciamo che già noi siamo nell'ottica di organizzare la nuova edizione del Bordetto Fest ma nel mentre ci sarà anche una novità perché abbiamo deciso di riproporre anche in versione invernale un grande successo dell'estate scorsa ovvero il circuito Moretta. Quindi presto ci saranno grosse novità a riguardo e cercheremo di promuovere e comunque far conoscere fuori Fano anche se già è famosissima la nostra Moretta, bevanda tipica fanese e cercare di valorizzarla il più possibile cercando di dare anche respiro a quello che è il mondo dei bar. Vogliamo dare anche qualche dettaglio tecnico, qualche informazione in più al pubblico a casa per partecipare al Gran Finale? Per partecipare al Gran Finale la serata di gala Villa Picinetti si può tranquillamente telefonare al numero del ristorante per notare il proprio tavolo. La serata a menù praticamente ha il piatto della tradizione marinara che sono gli spaghetti con le vongole a seguire ci sarà la degustazione dei due brodetti che sono arrivati in finale un dolce offerto dalla pasticceria Guerrino, acqua, vino il vino ci sarà una selezione di tre vini di cantine locali naturalmente il Bianchello che è un ottimo vino da abbinare al nostro brodetto ed infine anche la Moretta, tutto ad un prezzo convenzionato di 35 euro. Bene, e adesso insomma ci occupiamo della parte più tecnica se così si può dire non meno importante perché Confesercenti sostiene questa iniziativa, la promuove e allora Matteo ti chiedo quali sono le attuali iniziative di Confesercenti quelle che state portando avanti con grinta e tenacia? Le attuali iniziative sono molteplici ma ad oggi si parla molto di saldi invernali i saldi invernali la data prevista è il 5 gennaio 2024 oggi è il 15 novembre, erano quasi 20 gradi la riflessione che possiamo fare è che manca un mese e mezzo all'inizio dei saldi invernali e i commercianti, gli esercenti devono ancora iniziare a vendere i capi invernali quindi non è possibile mantenere ad oggi le date che magari potevano funzionare in periodi precedenti noi come Confesercenti ci stiamo battendo su questo punto abbiamo fatto una lettera aperta alla Regione è una battaglia che stiamo portando avanti ormai da anni abbiamo sollecità la Regione, la Regione di conseguenza dovrà muoversi a livello nazionale perché è una legge nazionale e abbiamo chiesto lo spostamento dell'inizio dei saldi dal 5 gennaio al 1 marzo i saldi invernali erano nati e sono visti dal commerciante e dall'imprenditore come una possibilità di poter vendere, svendere tra virgolette le rimanenze di magazzino cercando di riuscire a creare delle economie e delle liquidità ad oggi capiamo bene che iniziare ad applicare sconti nel pieno dell'attività invernale potrebbe comportare la perdita di quel guadagno sulla quale le attività fanno riferimento invece il saldo invernale doveva essere un modo per poter svuotare i propri magazzini e un modo per i consumatori finali che avrebbero avuto la possibilità di acquistare dei capi sapendo che però li avrebbero acquistati in periodi differenti, cioè a fine stagione il problema ce l'abbiamo adesso per i saldi invernali ma di conseguenza poi ce l'avremo anche per quelli estivi quindi questa è una battaglia che stiamo portando avanti e che vogliamo vincere logicamente la battaglia sui saldi invernali non è legata esclusivamente al cambiamento climatico ci sono dietro anche altri temi molto importanti come ad esempio la concorrenza nella grande distribuzione organizzata i centri commerciali per intenderci ma anche dei commerci online svolto dalle grandi multinazionali che spesso hanno la possibilità di vendere prodotti sotto costo a prezzi ribassati un po' tutto l'anno sia perché vendono prodotti su larga scala quindi si possono permettere di applicare prezzi ridotti ma purtroppo a volte godono anche di una fiscalità agevolata che rende la concorrenza a nostro avviso sleare quindi questi sono temi molto importanti che stiamo portando avanti Un altro tema che ci sta e sta particolarmente a cuore a Confesercenti è il tema della sicurezza Sì, purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo assistito in particolare Sufano a episodi non proprio gradevoli episodi di micro criminalità che ci sono stati subito segnalati dagli imprenditori e dai cittadini In questo senso ci siamo mossi subito avendo un confronto con l'amministrazione comunale e poi con le forze dell'ordine In questo senso devo dire che c'è stata una risposta veramente positiva e collaborativa perché le forze dell'ordine hanno messo a disposizione le proprie risorse presidiando in maniera costante le vie delle nostre città in modo da renderle più sicure e più vivibili e così in realtà abbiamo raggiunto un risultato L'intento è quello di mantenerla questa sicurezza all'interno delle nostre città anche se in notizia di questa mattina ho letto sul giornale che anche nei paesi di Mitrofiafano purtroppo si stanno verificando questi episodi non proprio piacevoli A proposito di sicurezza, come vivono gli esercenti per l'appunto? Gli esercenti in realtà sono un po' preoccupati perché davanti ai loro negozi l'assistere a determinati episodi sicuramente non è piacevole e sicuramente non incoraggia il cittadino a recarsi in determinati posti quindi lo vivono in maniera spiacevole però mi vorrei ricollegare al tema della sicurezza e all'importanza il ruolo che hanno gli esercenti e i negozi di vicinato le piccole botteghe, ovvero le economie dei nostri territori hanno un ruolo fondamentale perché immaginiamoci un paese o una città come Fano o anche come Pesaro senza negozi, senza botteghe quindi con locali sfitti e non illuminati quindi qua emerge il ruolo anche di sicurezza proprio il ruolo sociale che un negozio di vicinato attraverso le proprie vetrine, attraverso il proprio mercato attraverso la propria clientela può generare e rendere le vie ai nostri paesi in qualche modo in maniera diciamo più sicura renderle più sicure, immaginiamo cosa potrebbe essere un centro storico di un paese senza vetrine e senza negozi sarebbe uno scenario spettrale e purtroppo la realtà ci parla che molti borghi stanno vivendo questo spopolamento e quindi noi dobbiamo fare in modo che con le politiche comunali adesso a breve ci saranno le elezioni politiche noi come confesarcenti chiederemo dei tavoli di confronto per cercare di capire quali sono le strategie che i nuovi futuri sindaci vorranno mettere in campo ma più che altro proporremo noi delle idee che riteniamo possano funzionare perché le nuove amministrazioni devono capire che devono prendere una linea che è quella che va a sostegno dell'economia locale non possiamo più assistere come abbiamo assistito negli ultimi anni a politiche attendiste statiche in balia degli eventi quindi noi ci saremo, ci saremo prima delle elezioni ma ci saremo anche dopo e vigileremo in maniera costante l'operato delle varie amministrazioni Quali sono allora i servizi offerti da confesarcenti? Confesarcenti logicamente accanto all'attività sindacale rappresentativa che è proprio l'attività istituzionale dell'associazione attraverso il proprio CAT, la società di servizi è presente in tutto il territorio provinciale a partire dalle sedi più grandi quali quelle di Pesaro e Fano fino ad arrivare alle sede più piccoline come quelle ad esempio di Cagli, Urbino, Gabiccia, Nova Feltria sede più piccoline soltanto dal punto di vista fisico perché poi dal punto di vista della qualità e della quantità dei servizi offerti sicuramente non hanno nulla che invidiare alle sedi più grandi poi la particolarità nostra che è una vera e propria squadra nel senso che le problematiche di una sede vengono condivise con l'altra e viceversa di modo che di volta in volta sia sempre la risposta migliore da fornire da fornire all'associato o al cliente quindi ad oggi siamo in grado di coprire un po' tutti i servizi devo fare una riflessione nel senso che negli ultimi anni il nostro lavoro si è un po' modificato ma più che modificato si è evoluto il Covid ha giocato un ruolo fondamentale ci ha portato a perdere un po' il contatto con il cliente con l'imprenditore fatture elettroniche, corrispettivi, smart working abbiamo perso in realtà un po' il contatto diretto con l'imprenditore quello che noi vorremmo proporre o in realtà riproporre è proprio il ruolo consulenziale che abbiamo noi come associazione il dover ascoltare l'imprenditore o il privato cittadino nel caso dei servizi del CAF e patronato e poterlo consigliare nel migliore dei modi in una, passatemi il termine, giungla burocratica come quella che stiamo attraversando quindi Confesercenti c'è ed è in prima linea con il ruolo della consulenza allora Stefano, la parola a te come di consueto per fare invito al pubblico a casa devo farlo in maniera seria ma che seria, ma che seria, non ce la facciamo vi aspettiamo il 26 di novembre a Villa Piccinetti alle ore 20 e 30 per la serata finale la serata di gala del fuori brodetto per assaggiare i due finalisti e per scegliere e decretare il miglior brodetto della nostra provincia hai detto serata di gala poi ci saranno delle sorprese in ballo perché ti vedremo anche in un'altra veste insomma non svegliamo quale ma ci vuole l'abito da sera quindi ti vedremo tiratissimo come si dice, serata di gala una serata tranquilla dove ci si potrà divertire gustare del volpesce, del buon vino e scoprire anche cose importanti nel nostro territorio fare una bella chiacchierata diciamo un'occasione da non perdere per del buon cibo e anche per fare una buona chiacchierata tutti insieme grazie allora Stefano Mirisola per essere stato con noi grazie a Matteo Radicchi io ringrazio Roberto Magrelli in regia e tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti